Professor Bancaccio, che cosa serve oggi al mercato del lavoro? Guardi, in primo luogo forse bisogna un po' sfatare un mito, cioè questa idea secondo cui rendere più flessibile il mercato del lavoro, facilitare i licenziamenti, poi aiuti a creare occupazione. Questa è una tesi che è stata largamente prevalente nel dibattito politico di questi anni in Italia e non soltanto, ma che è stata ormai chiaramente smentita dalla ricerca scientifica, cioè la ricerca scientifica di questi anni, l'88% delle pubblicazioni scientifiche realizzate su riviste peer review nel corso di questi anni, smentisce l'idea che più flessibilità crei occupazione, al punto tale che addirittura Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e Ocse, che sono state istituzioni notoriamente favorevoli a deregolamentazioni del lavoro, hanno ammesso che rendere più flessibile il mercato del lavoro a quanto pare non dà gli effetti sperati. Il secondo elemento, secondo me, secondo mito, secondo me che va un po' sfatato, è questa idea dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, cioè è chiaro che occorre la riqualificazione, è chiaro che occorre far funzionare le agenzie del lavoro, su questo siamo tutti assolutamente d'accordo, ma bisogna anche tener conto di un dato, stando a quel che dice l'Istat, il tasso di posti vacanti si aggira intorno all'1%, questo significa grosso modo che a livello macroeconomico il numero dei posti vacanti disponibili non raggiunge il 10% del totale dei disoccupati. Allora capite ovviamente che se queste sono le proporzioni, cioè grosso modo 10 disoccupati per ogni posto vacante disponibile, il problema è creare più posti disponibili più che porsi solo un problema di domanda e offerta di lavoro, perché la quantità di lavoro disponibile è troppo poca rispetto alla quantità di disoccupati.